Confermati gli arresti domiciliari per l'imprenditore francavillese Massimo Bianco, coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti al Palazzo di Giustizia di Brindisi e che ha portato in carcere, tra gli altri, il giudice Gianmarco Galiano. Il Tribunale del Riesame, pur riqualificando una ipotesi di reato fiscale ritenuta più lieve, ha confermato il provvedimento del GIP di Potenza, che aveva concesso a Bianco i domiciliari dopo l'interrogatorio di garanzia avvenuto nel carcere di Melfi. I giudici del Tribunale della Libertà dovranno esprimersi nei prossimi giorni sulle istanze presentate anche dai difensori del giudice Galiano e del commercialista Oreste Pepe Milizia, tuttora detenuti in carcere, e su quelle dell'ex moglie di Galiano Federica Spina e dell'avvocato Francesco Bianco, entrambi ai domiciliari. Ma al Tribunale del Riesame non si sono solo rivolte le difese. Il 23 febbraio sarà discusso l'appello proposto dal procuratore Francesco Curcio sul rigetto da parte del GIP di altre ordinanze di custodia cautelare e sull'aggravamento di alcune ipotesi di reato contestate agli indagati. La Procura di Potenza aveva infatti chiesto 12 arresti, ottenendone la metà, riproponendo così l'istanza, questa volta ai giudici del Riesame, nei confronti di altri sei indagati la cui posizione viene considerata rilevante. Si tratta dell'ex sindaco di Latiano Antonio De Giorgi, dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Latiano Massimo Ribezzo, dell'avvocato di Galattina Mauro Calò, del segretario di missionario del PD cittadino latianese e capogruppo in consiglio comunale Vincenzo Francioso, della commercialista latianese Concetta Lappadula, dell'imprenditore francavillese Pietro Di Coste. Le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi intanto procedono anche alla luce delle dichiarazioni prese durante gli interrogatori di garanzia da Massimo Bianco e dall'ingegnere Analisa Formosi, ex moglie di Pepe Milizia, quest'ultima scarcerata dopo il confronto con il giudice che ne aveva ordinato l'arresto.